Tra orari, ipotesi stretta, vita notturna e inciviltà. È stato fissato per le ore 12 di venerdì 4 novembre l'incontro tra l'amministrazione comunale di Sulmona e i gestori dei locali. Un incontro che era nell'aria già da qualche giorno, anzi da qualche mese, dal momento che la richiesta di un summit risale alla fine di settembre. Tuttavia il confronto sull'argomento non è più procrastinabile. Sul tavolo di Palazzo San Francesco non c'è un ordine del giorno preciso, ma le problematiche da sviscerare possono intuirsi. gestione della vita notturna, possibili revisioni degli orari di chiusura, controlli e fini dell'ordine pubblico, interventi per frenare l'inciviltà che dipende però dalla decadenza dei valori piuttosto che dei locali, effetti recorre energia con il probabile spegnimento delle zone centrali almeno per le tre di notte al fine di calmirare i costi. Ma si dovrà pur discutere sugli eventi di organizzare per rendere attrattiva la città dalla notte bianca e non solo. Insomma tanta carne a cuocere con la speranza di trovare una ricetta comune alla portata di tutti.